Lo studio predisposto dalla provincia in collaborazione con Amnil, con Confapi, con le associazioni di categoria ha messo in evidenza come i lavoratori e le imprese della piccola e media impresa collaborino tra di loro per far crescere una cultura della sicurezza e predisporre tutti quegli atti necessari a ridurre il numero degli infortuni. La testimonianza è anche data dal fatto che in provincia di Bergamo gli infortuni ormai da alcuni anni a questa parte stanno calando e nel giro di pochi anni sono calati addirittura del 25%. È un dato estremamente positivo dovuto alla collaborazione tra le istituzioni, il mondo del lavoro produttivo e le imprese. Lo studio è molto importante, abbiamo fatto in collaborazione con la provincia, con l'assessorato al lavoro, con l'API, piccole industrie per fare il punto sulla sicurezza delle piccole e medie imprese. Noi come Amnil andiamo nelle scuole, parliamo ai ragazzi, ai futuri lavoratori e ai futuri imprenditori e abbiamo cercato di fare qualcosa che andasse anche dove, secondo le statistiche, succedono più gli incidenti, dove gli stessi datori di lavoro sono i lavoratori stessi. Ed è emersa una ricerca molto importante, un inizio di un percorso di buone prassi da fare insieme con la collaborazione diretta dei lavoratori e soprattutto dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese per far luce su un fenomeno che, pur essendo in diminuzione, è sempre drammatico. Il lavoro, il Vademecum, si compone di una parte che raffigura i dati statistici sia in tema di occupazione che di andamento degli infortuni sul lavoro e malattie professionali sul territorio di Bergamo da cui emergono dati molto positivi e, diciamo, migliori anche rispetto alla tendenza a livello nazionale e regionale e quindi in netto calo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La parte centrale, quello che definiamo il cuore del Vademecum, è composto invece dagli esiti delle interviste, dei confronti fatti con le istituzioni pubbliche aventi competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i sindacati e le associazioni datoriali, dalle quali appunto sono emerse numerose iniziative virtuose rispetto al tema della sicurezza sul territorio. E l'altra parte che sempre compone questa indagine pilota sono gli esiti delle interviste, delle visite aziendali fatte presso le piccole imprese di settori a rischio medio o alto della provincia di Bergamo. Mi soffermo in particolare sugli esiti di queste interviste perché è emerso che queste aziende del territorio bergamasco, oltre ad avere normalmente un alto livello di adempimento di tutti gli obblighi formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quindi a rispettare le norme di legge su questa materia molto complessa e molto delicata, adottano anche una serie di misure, investendo anche molto su una serie di misure volontaristiche per una maggiore sicurezza e una maggiore produttività. Si tratta quindi di aziende che oltre ad essere a norma sono anche aziende che hanno forte sensibilità e cultura verso questo tema. C'è una parte del Vademecum anche dedicata al tema dei disabili in particolare, quelle disabilità che derivino da un infortunio sul lavoro o una malattia professionale e anche rispetto a questo tema le imprese del territorio bergamasco hanno manifestato forte sensibilità e in particolare l'interesse ad avere testimonianze di infortunati sul lavoro, sul luogo di lavoro per poter portare e condividere le esperienze di chi ha già sofferto ai lavoratori nei loro percorsi di formazione.